Una gita scialpinistica che si trasforma in tragedia. Erano da poco passate le 14 quando una valanga si è staccata dal monte Forcellina in una zona impervia sul versante di Trepalle, non molto distante dal passo del Foscagno. Due persone, papà e figlia, sono state investite dalla massa nevosa. Sono scivolate per diversi metri. La richiesta di soccorso è stata raccolta dalla centrale operativa che ha fatto decollare l'elisoccorso di Areu. Un'uscita in codice rosso. Subito allertati anche il soccorso alpino di Livigno, i militari del SAGF di Vormio, i carabinieri. Purtroppo per il padre, un uomo di 62 anni, non c'è stato nulla da fare. Il tempo trascorso sotto la coltre bianca gli è stato fatale. Sotto sciocca ma praticamente è lesa la figlia. È stata valutata dall'equipe medica ma non ospedalizzata, fa sapere Areu. Sulla dinamica di quanto è accaduto sono in corso gli accertamenti e le indagini condotte dai militari dalle Fiamme Gialle. In questi giorni il rinnevamento è al di sotto della media ma lungo i pendii più ripidi o nei canaloni il distacco di slavine e valanghe è comunque possibile. A tutte le quote, si legge nel bollettino di Arpa Lombardia, durante le ore più calde della giornata aumenta la probabilità di valanghe di neve bagnata. Questi in alcuni casi possono coinvolgere gli stati deboli presenti nel manto e raggiungere le medie dimensioni.